Lettera di Gramsci tratta dalla presentazione. «Cara Giulia, io ho attraversato molti brutti momenti. Mi sono sentito tante volte fisicamente debole, quasi stremato. Però non ho mai ceduto alla debolezza fisica e, per quanto è possibile dire in queste cose, non credo che cederò d'ora in avanti. Eppure posso aiutarmi ben poco. Quanto più mi accorgo di dover attraversare brutti momenti, di essere debole, di vedere aggravarsi le difficoltà, tanto più mi irrigidisco nella tensione di tutte le mie forze volitive. Qualche volta riepilogo questi anni passati. Penso al passato. E mi pare che se sei anni fa mi fossi prospettato di dover attraversare ciò che ho attraversato, non l'avrei creduto possibile. Avrei giudicato di dovermi spezzare ad ogni momento. Proprio sei anni fa sono passato, indovina, da Rivisondoli, in Abruzzo, che tu qualche volta hai ricordato per esserci stata in villeggiatura d'estate. Ci sono passato, chiuso in un vagone di metallo, che era stato tutta la notte sotto la neve, e io non avevo né soprabito né maglia di lana e non potevo neanche muovermi perché bisognava stare seduti per la mancanza di spazio. Tremavo tutto come per la febbre, battevo i denti, e mi pareva di non essere in grado di finire il viaggio perché il cuore sarebbe gelato. Eppure sono trascorsi sei anni da allora e sono riuscito a cacciarmi di dosso quel freddo da ghiacciaia e se qualche volta mi tornano quei brividi che un po' mi sono rimasti nelle ossa, mi metto a ridere ricordando quel che allora pensavo e mi paiono fanciullaggine. Avventura Natalizia Carissima Tania Oggi voglio raccontare per te, Delio e Giuliano un episodio natalizio della mia fanciullezza che vi divertirà e vi darà un tratto caratteristico della vita delle mie parti. Avevo 14 anni e facevo la terza ginnasiale a Santu Lussurgiu, un paese distante dal mio circa 18 chilometri. Con un altro ragazzo, per guadagnare 24 ore in famiglia, ci mettemmo in strada, a piedi, il dopo pranzo del 23 dicembre, invece di aspettare la diligenza del mattino seguente. Cammina, cammina, eravamo circa a metà del viaggio, in un posto completamente deserto e solitario. A sinistra, un centinaio di metri dalla strada, si allungava una fila di pioppi con delle boscaglie di lentischi. A un tratto ci spararono un primo colpo di fucile sulla testa. La pallottola fischiò una decina di metri in alto. Credemmo a un colpo casuale e continuammo tranquilli. Un secondo e un terzo colpo, bassi, ci avvertirono subito che eravamo proprio presi di mira e allora ci buttammo nella cunetta, rimanendo appiattiti un pezzo. Quando provammo a sollevarci, un altro colpo. E così circa due ore con una dozzina di colpi che ci inseguivano mentre ci allontanavamo strisciando ogni volta che tentavamo di ritornare sulla strada. Certamente era una comitiva di buontemponi che voleva divertirsi a spaventarci. Ma che bello scherzo natalizio, eh? Arrivamo a casa a notte buia, discretamente stanchi e infangati. e non raccontammo la storia a nessuno per non spaventare in famiglia. Ma non ci spaventammo granché, perché alle prossime vacanze di carnevale il viaggio fu ripetuto, senza incidenti di sorta. Ti abbraccio teneramente. Antonio Post scriptum Ma la storia è proprio vera. Non è affatto una storia di briganti. Che farò da grande? Carissima Tania, e così l'anno nuovo è incominciato. Bisognerebbe fare dei programmi di vita nuova, secondo l'usanza. Ma, per quanto abbia pensato, un tale programma non sono riuscito ancora a combinarlo. È stata questa una grande difficoltà sempre nella mia vita, fin dai primi anni di attività raziocinatrice. Nelle scuole elementari, ogni anno di questi tempi, assegnavano come tema di componimento la questione che cosa farete nella vita. Questione ardua che io risolvetti la prima volta, a otto anni, fissando la mia scelta nella professione di carrettiere. Avevo trovato che il carrettiere riuniva tutte le caratteristiche dell'utile e del dilettevole. Schioccava la frusta e guidava i cavalli. Ma, nello stesso tempo, compiva un lavoro che nobilita l'uomo e gli procura il pane quotidiano. Sono rimasto fedele a questo indirizzo anche l'anno successivo, ma per ragioni che direi estrinseche. Se fossi stato sincero, avrei detto che la mia più viva aspirazione era quella di diventare uscere di pretura. Perché? Perché in quell'anno era venuto al mio paese, come uscere di pretura, un vecchio signore che possedeva un simpaticissimo cagnetto nero, sempre in ghingeri, fiocchetto rosso alla coda, gualdrappina sulla schiena, collana verniciata, finimenti da cavallo in testa. Io proprio non riuscivo a dividere l'immagine del cagnetto da quella del suo proprietario e dalla professione sua. Eppure rinunciai, con molto rammarico, a cullarmi in quella prospettiva che tanto mi seduceva. Era di una logica formidabile e di una integrità morale da fare arrossire i più grandi eroi del dovere. Sì, mi ritenevo indegno di diventare uscere di pretura e quindi di possedere cagnetti così meravigliosi. Non conoscevo a memoria gli 84 articoli dello Statuto del Regno. Proprio così. Avevo fatto la seconda classe elementare, rivelazione prima delle virtù civiche del carrettiere, e avevo pensato di fare, nel mese di novembre, gli esami di proscioglimento per passare alla quarta saltando la terza classe. Ero persuaso di essere capace di tanto, ma quando mi presentai al direttore didattico per presentargli la domanda protocollare, mi sentii fare a bruciapelo la domanda «Ma conosci gli 84 articoli dello Statuto?» Non ci avevo neanche pensato a questi articoli. Mi ero limitato a studiare le nozioni di diritti e doveri del cittadino contenute nel libro di testo. Ciò fu per me un terribile monito che mi impressionò tanto più in quanto il 20 settembre precedente avevo partecipato per la prima volta al corteo commemorativo con un lampioncino veneziano e avevo gridato con gli altri «Viva il leone di Caprera! Viva il morto di Staglieno!» Non ricordo se si gridava il morto o il profeta di Staglieno, forse tutti e due per la varietà. Certo come ero di essere promosso all'esame e di conquistare i titoli giuridici per l'elettorato diventando un cittadino attivo e perfetto. Invece non conoscevo gli 84 articoli dello Statuto. Che cittadino ero dunque? E come potevo ambiziosamente aspirare a diventare uscere di pretura e a possedere un cane con il fiocchetto e la gualdrappa? L'uscere di pretura è una rotella dello Stato, io pensavo fosse una grande ruota. È un depositario e un custode della legge anche contro i possibili tiranni che volessero calpestarla e io ignoravo gli 84 articoli. Così mi limitai gli orizzonti e ancora una volta esaltai le virtù civiche del carrettiere che tuttavia può avere un cane anche egli sia pure senza fiocchetto e senza gualdrappa. Vedi come i programmi precostituiti in modo troppo rigido e schematico vanno a cozzare infrangendosi contro la dura realtà quando si ha una vigile coscienza del dovere. Ti abbraccio Antonio I due passerotti Carissima Tania ti racconterò la storia dei miei passerotti. Devi dunque sapere che ho un passerotto e che ne ho avuto un altro che è morto credo avvelenato da qualche insetto una blatta o un millepiedi. Il primo passerotto era molto più simpatico dell'attuale era molto fiero e di una grande vivacità. L'attuale è modestissimo di animo servile e senza iniziativa. Il primo divenne subito padrone della cella conquistava tutte le cime esistenti nella cella e quindi si assideva per qualche minuto ad assaporare la sublime pace. Salire sul tappo di una bottiglietta di tamarindo era il suo perpetuo assillo e perciò una volta cadde in un recipiente pieno di rifiuti della caffettiera e fu lì per affogare. Ciò che mi piaceva di questo passero è che non voleva essere toccato. Si rivoltava ferocemente con le ali spiegate e beccava la mano con grande energia. Si era domesticato ma senza permettere troppe confidenze. Il curioso era che la sua relativa familiarità non fu graduale ma improvvisa. Si muoveva per la cella ma sempre nell'estremo opposto a me. Per attirarlo gli offrivo una mosca in una scatoletta di fiammiferi. Non la prendeva se non quando io ero lontano. Una volta invece di una nella scatoletta erano cinque o sei mosche. Prima di mangiare danzò freneticamente intorno per qualche secondo. La danza fu ripetuta sempre per le mosche numerose. Un mattino rientrando dal passeggio mi trovai il passero vicinissimo. Non si staccò più nel senso che da allora mi stava sempre vicino guardandomi attentamente e venendo ogni tanto a beccarmi le scarpe per farsi dare qualcosa. Ma non si lasciò mai prendere in mano senza rivoltarsi e cercare subito di scappare. È morto lentamente cioè ha avuto un colpo improvviso di sera mentre era accovacciato sotto il tavolino ha strillato proprio come un bambino ma è morto solo il giorno dopo era paralizzato dal lato destro e si trascinava penosamente per mangiare e bere poi di colpo morì. L'attuale passero invece è di una domesticità nauseante vuole essere imbeccato quantunque mangi da sé benissimo viene sulla scarpa e si mette nella piega dei calzoni se avesse le ali intere volerebbe sul ginocchio si vede che vuol farlo perché si allunga freme poi va sulla scarpa penso che morirà anch'esso perché ha l'abitudine di mangiare le capocchie bruciate dei fiammiferi oltre al fatto che il mangiare sempre pane molle deve procurare a questi uccellini dei disturbi mortali per adesso è abbastanza sano ma non è vivace non corre sta sempre vicino e si è già involontariamente preso alcune pedate questa la storia dei miei passerini ti abbraccio teneramente Antonio il topo e la montagna carissima Giulia puoi domandare a Delio da parte mia quale dei racconti di Pushkin ami di più io veramente ne conosco solo due il galletto d'oro e il pescatore vorrei ora raccontare a Delio una novella del mio paese che mi pare interessante te la riassumo e tu gliela svolgerai a lui e a Giuliano un bambino dorme c'è un bricco di latte pronto per il suo risveglio un topo si beve il latte il bambino non avendo latte strilla e la mamma che non serve a nulla corre dalla capra per avere del latte la capra gli darà il latte se avrà l'erba da mangiare il topo va dalla campagna per l'erba e la campagna arida vuole l'acqua il topo va dalla fontana la fontana è stata rovinata dalla guerra e l'acqua si disperde vuole il maestro muratore questo vuole le pietre il topo va dalla montagna e avviene un sublime dialogo tra il topo e la montagna che è stata disboscata dagli speculatori e mostra dappertutto le sue ossa senza terra il topo racconta tutta la storia e promette che il bambino cresciuto ripianterà i pini querce castagni eccetera così la montagna dalle pietre eccetera e il bimbo ha tanto latte che si lava anche con latte cresce pianta gli alberi tutto muta spariscono le ossa della montagna sotto il nuovo humus la precipitazione atmosferica ridiventa regolare perché gli alberi trattengono i vapori e impediscono ai torrenti di devastare la pianura insomma il topo concepisce un vero e proprio piano di lavoro organico e adatto a un paese rovinato dal disboscamento carissima giulia devi proprio raccontare questa novella e poi comunicarmi le impressioni dei bimbi ti abbraccio teneramente antonio carissima tania voglio scriverti di una questione che ti farà arrabbiare e ti farà ridere sfogliando il piccolo larousse mi è ritornato alla memoria un problema abbastanza curioso da bambino ero un infaticabile cacciatore di lucertole e serpi che davo da mangiare a un bellissimo falco che avevo addomesticato durante queste cacce nelle campagne del mio paese ghilarza mi è capitato tre o quattro volte di trovare un animale simile al serpe comune biscia solo che aveva quattro zampette due vicino alla testa e due molto lontane dalle prime vicino alla coda se si può chiamare così l'animale era lungo 60-70 centimetri molto grosso in confronto della lunghezza la sua grossezza corrisponde a quella di una biscia di un metro e venti o un metro e cinquanta le gambette non gli sono molto utili perché scappava strisciando molto lentamente al mio paese questo rettile si chiama scorzone che vorrebbe dire scorciato curzo vuole dire corto e il nome si riferisce certamente al fatto che sembra una biscia scorciata vada che c'è anche l'orbettino che alla poca lunghezza unisce la proporzionata sottigliezza del corpo a Santulusurgiu dove ho fatto le ultime classi del ginnasio domandai al professore di storia naturale che veramente era un vecchio ingegnere del luogo come si chiamasse in italiano lo scorzone e gli rise e mi disse che era un animale immaginario come l'aspide o il basilisco e che non conosceva alcun animale come quello che io descrivevo i ragazzi di Santulusurgiu spiegarono che nel loro paese scorzone era appunto il basilisco e che l'animale da me descritto si chiamava coloru coluber latino mentre la biscia si chiamava colora al femminile ma il professore disse che erano tutte superstizioni dei contadini e che bisce con le zampe non ne esistono tu sai come faccia rabbia a un ragazzo sentirsi dar torto quando invece sa di aver ragione o addirittura di essere preso in giro come superstizioso in una questione di cose reali penso che a questa reazione contro l'autorità messa a servizio dell'ignoranza sicura di se stessa è dovuto se ancora mi ricordo l'episodio al mio paese poi non avevo mai sentito parlare delle qualità malefiche del basilisco scorzone che però in altri paesi era temuto e circondato da leggende ora appunto nella Rus ho visto nelle tavole dei rettili un sauriano il seps che è appunto una biscia con quattro zampette il Larousse dice che abita la Spagna e la Francia meridionale è della famiglia degli scincides il cui rappresentante tipico è lo scinque forse il ramarro la figura del seps non corrisponde allo scorzone del mio paese il seps è una biscia regolare sottile lunga proporzionata e le zampette sono attaccate al corpo armonicamente lo scorzone invece è un animale repellente la sua testa è molto grossa non piccola come quella delle bisce la coda è molto conica le zampette davanti sono troppo vicine alla testa e sono poi troppo lontane da quelle di dietro le zampe sono bianchicce malsane come quelle del proteo e danno l'impressione della mostruosità della normalità tutto l'animale che abita in luoghi umidi io l'ho sempre visto dopo aver rotolato grossi sassi fa un'impressione sgraziata non come la lucertola e la biscia che a parte la repulsione generica dell'uomo per i rettili sono in fondo eleganti e graziose vorrei ora sapere dalla tua esperienza di storia naturale se questo animale ha un nome italiano e se è noto che in sardegna esiste questa specie che deve essere della stessa famiglia dei seps francesi è possibile che la leggenda del basilisco abbia impedito di ricercare l'animale in sardegna il professore di santulus surgiu non era uno stupido tutt'altro ed era anche molto studioso faceva collezioni mineralogiche eccetera eppure non credeva che esistesse lo scurzone come in realtà molto pedestre senza alito avvelenato e occhi incendiari certo questo animale non è molto comune io l'ho visto non più di una mezza dozzina di volte e sempre sotto i massi mentre bisce ne ho visti a migliaia senza bisogno di muovere sassi ti abbraccio teneramente Antonio caccia alle rane carissima Giulia una delle cose che più mi ha interessato nella tua lettera è la notizia che Delio e Giuliano si occupano di acchiappare le rane vorrei sapere se si tratta o no di rane commestibili ciò che darebbe alla loro attività di cacciatori un carattere pratico e utilitario da non disprezzarsi non so se tu vorrai prestarti ma dovresti insegnare ai bambini a distinguere le rane commestibili dalle altre quelle commestibili hanno il ventre completamente bianco mentre le altre hanno il ventre rossastro si possono prendere mettendo nella lenza invece del lamo un pezzo di cencio rosso che essi addentano bisogna avere un brocchetto e metterle dentro dopo aver tagliato loro con le forbici la testa e le zampe dopo averle scuoiate si possono preparare in due modi per fare del brodo squisito e in questo caso dopo averle bollite a lungo con i soliti condimenti si passano allo staccio in modo che tutto passi nel brodo eccetto le ossa oppure si friggono e si mangiano dorate e croccanti in un caso e nell'altro sono un cibo molto saporito ma specialmente molto nutriente e di facile digestione ti abbraccio teneramente Antonio l'albero del riccio caro Delio mi è piaciuto il tuo ongoletto vivente coi fringuelli e i pesciolini se i fringuelli scappano dalla gabbietta non bisogna afferrarli per le ali o per le gambe che sono delicate e possono rompersi o slogarsi occorre prenderli a pugno pieno per tutto il corpo senza stringere io da ragazzo ho allevato molti uccelli e anche altri animali falchi barbagianni cuculi gazze cornacchie cardellini canarini fringuelli allodole eccetera eccetera ho allevato una serpicina una donnola dei ricci delle tartarughe ecco dunque come ho visto i ricci fare la raccolta delle mele una sera d'autunno quando era già buio ma splendeva luminosa la luna sono andato con un altro ragazzo mio amico in un campo pieno di alberi da frutta specialmente di meli ci siamo nascosti in un cespuglio contro vento ecco a un tratto sbucano i ricci cinque due più grossi e tre piccolini in fila indiana si sono avviati verso i meli hanno girellato tra l'erba e poi si sono messi al lavoro aiutandosi quei musetti e con le gambette facevano ruzzolare le mele che il vento aveva staccato dagli alberi e le raccoglievano insieme in uno spiazzetto ben bene vicine una all'altra ma le mele giacenti per terra si vede che non bastavano il riccio più grande col muso per aria si guardò attorno scelse un albero molto curvo e si arrampicò seguito da sua moglie si posarono su un ramo carico e incominciarono a dondolarsi ritmicamente i loro movimenti si comunicarono al ramo che uscillò sempre più spesso con scosse brusche e molte altre mele caddero per terra radunate anche queste vicino alle altre tutti i ricci grandi e piccoli si arrotolarono con gli acule e gli irti e si sdraiarono sui frutti che rimanevano infilzati c'era chi aveva poche mele infilzate i riccetti ma il padre e la madre erano riusciti a infilzare sette o otto mele per ciascuno mentre stavano ritornando alla loro tana noi uscimmo dal nascondiglio prendemmo i ricci in un sacchetto e ce li portammo a casa io ebbi il padre e due riccetti e li tenne molti mesi liberi nel cortile essi davano la caccia a tutti gli animaletti blatte maggiolini eccetera e mangiavano frutta e foglie di insalata le foglie fresche piacevano loro molto e così li potei addomesticare un poco non si appallottolavano più quando vedevano la gente avevano però molta paura dei cani io mi divertivo a portare nel cortile delle bisce vive per vedere come i ricci le cacciavano appena il riccio si accorgeva della biscia saltava lesto lesto sulle quattro gambette e caricava con molto coraggio la biscia sollevava la testa con la lingua fuori e fischiava il riccio dava un leggero squittio teneva la biscia con le gambette davanti le mordeva la nuca e poi se la mangiava pezzo a pezzo questi ricci un giorno sparirono certo qualcuno se li era presi per mangiarli ti scriverò un'altra volta sul ballo delle lepri dell'uccello tessitore e dell'orso e su altri animali ti voglio raccontare altre cose che ho visto e sentito dal ragazzo la storia del polledrino della volpe e del cavallo che aveva la coda solo nei giorni di festa eccetera eccetera mi pare che tu conosca la storia di Kim le novelle della giungla e specialmente quella della foca bianca e di ricchi ticchitawi ti bacio Antonio la volpe e il puledro carissimo Delio ho saputo che sei stato al mare e che hai visto delle cose bellissime vorrei che tu mi scrivessi per descrivermi queste bellezze e poi hai conosciuto qualche nuovo essere vivente vicino al mare c'è tutto un brulichio di esseri granchiolini meduse stelle marine eccetera molto tempo fa ti avevo promesso di scriverti alcune storie sugli animali che ho conosciuto io da bambino ma poi non ho potuto adesso proverò a raccontartene qualcuna per esempio la storia della volpe e del polledrino pare che la volpe sappia quando deve nascere un polledrino e sta in agguato e la cavallina sa che la volpe è in agguato perciò appena il polledrino nasce la madre si mette a correre in circolo intorno al piccolo che non può muoversi e scappare se qualche animale selvatico lo assale eppure si vedono qualche volta per le strade della Sardegna dei cavalli senza la coda e senza orecchie perché? perché appena nati la volpe in un modo o nell'altro è riuscita ad avvicinarsi e ha mangiato loro la coda o le orecchie ancora molle molle quando io ero bambino uno di questi cavalli serviva un vecchio venditore di olio di candele e di petrolio che andava di villaggio in villaggio a vendere la sua merce non c'era allora cooperativa né altro modo di distribuire la merce ma di domenica perché i monelli non gli dessero la baia il venditore metteva al suo cavallo coda finta e orecchie finte ora ti racconterò come ho visto la volpe la prima volta coi miei fratellini andai un giorno in un campo di una zia dove erano due grandissime querce e qualche albero da frutteto dovevamo fare la raccolta delle ghiande per dare da mangiare a un maialino il campo non era lontano dal paese ma tuttavia tutto era deserto e si doveva scendere in una valle appena entrati nel campo ecco che sotto un albero era tranquillamente seduta una grossa volpe con la bella coda eretta come una bandiera non si spaventò per nulla ci mostrò i denti ma sembrava che ridesse non che minacciasse noi bambini eravamo in collera che la volpe non avesse paura di noi proprio non aveva paura le tirammo dei sassi ma essa si scostava appena e poi ricominciava a guardarci beffarda e sorgnona ci mettevamo dei bastoni alla spalla e facevamo tutti insieme boom come fosse una fucilata ma la volpe ci mostrava i denti senza scomodarsi troppo d'un tratto si sentì una fucilata sul serio sparata da qualcuno nei dintorni solo allora la volpe dette un balzo e scappò rapidamente mi pare di vederla ancora tutta gialla correre come un lampo su un muretto sempre con la coda eretta e sparire in un macchione carissimo Delio raccontami ora dei tuoi viaggi e delle novità che hai visto ti bacio Antonio la sigaretta nella ciminiera caro Delio ho saputo che vai a scuola che sei alto ben un metro e otto centimetri e che pesi dieciotto chili così penso che tu sei già molto grande e che tra poco tempo mi scriverai delle lettere in attesa di ciò puoi già oggi far scrivere alla mamma sotto tua dettatura delle lettere come facevi scrivere a me a Roma i pimpò per la nonna così mi dirai se a scuola ti piacciono gli altri bambini e cosa impari e come ti piace giocare so che costruisci aeroplani e treni che partecipi attivamente all'industrializzazione del paese ma poi questi aeroplani volano davvero e questi treni corrono se ci fossi io almeno metterei la sigaretta nella ciminiera in modo che si vedesse un po' di fumo poi mi devi scrivere qualcosa di Giuliano che te ne pare ti aiuta nei tuoi lavori è anche egli un costruttore oppure è ancora troppo piccolo per meritarsi questa qualifica insomma io voglio sapere un mucchio di cose e poiché tu sei così grande e mi hanno detto anche un po' chiacchierino così sono sicuro che mi scriverai con la mano della mamma per adesso una lettera lunga lunga con tutte queste notizie e altre ancora e io ti darò notizie di una rosa che ho piantato e di una lucertola che voglio educare bacia Giuliano per conto mio e anche la mamma e tutti quanti di casa e la mamma bacerà a te a sua volta per conto mio Antonio post scriptum ho pensato che tu forse non conosci le lucertole si tratta di una specie di coccodrilli che rimangono sempre piccini vi piace Pinocchio? carissimi Delio e Giuliano non mi avete più scritto perché da tanto tempo non so più nulla degli esseri viventi di Delio del suo fringuello dei pesciolini e poi Delio ha ricevuto il libro di Pinocchio gli sono piaciute le illustrazioni corrispondono esse all'immaginazione che egli si era fatto del burattino e a Giuliano piace la storia di Pinocchio quali sono ora i centri del vostro interesse sia a scuola che a casa scrivetemi tante cose tutte e due vi abbraccio tanto e vi faccio tante carezze Antonio incontro col mare caro Giuliano hai visto il mare per la prima volta scrivimi qualche tua impressione hai bevuto molta acqua salata facendo i bagni hai imparato a nuotare hai preso dei pesciolini vivi e dei granchi io ho visto dei ragazzetti che prendevano dei pesciolini nel mare con un mattone bucato ad aria ne avevano riempito il secchiello ti abbraccio Antonio Leoni e storie carissimo Delio ho ricevuto la tua lettera del 28 marzo con le notizie sui pesciolini la rosa la primula gli orsi e i leoni ma che leoni hai visto leoni africani o del Turkestan avevano la criniera o il pelo del collo liscio e gli orsi erano come quelli che avevi visto a Roma non mi hai scritto se hai ricevuto il libro di Pinocchio e se le avventure dell'illustre Burattino sono piaciute a Giuliano hai poi letto la storia della foca bianca della mangusta ricchi tichitawi e del bambino maugli allevato dai lupi nel 1922 alla libreria di stato ne preparavano una bellissima edizione con disegni originali che ebbi occasione di vedere mentre gli operai litografi li trasportavano sulla pietra domanda alla mamma e a Tania se questa edizione si può ancora trovare altrimenti ti manderò il libro in italiano o in francese ti bacio con Giuliano Antonio il gioco della dama caro Delio ho ricevuto la tua lettera e ho avuto notizie della tua attività di scolaro ti sono piaciute le novelle di maugli la mia vita trascorre un po' monotona ma in modo abbastanza soddisfacente per la salute mi dispiace molto di non poter essere vicino ai miei cari ragazzi e di non poterli aiutare nel loro lavoro per la scuola e per la vita ho letto nei giornali il risultato del campionato degli scacchi ma io non so giocare ho imparato un poco solo il gioco della dama ti bacio Antonio e di non poterli aiutare di non poterli aiutare che si chiede un cagnolino dal latte caro giuliano ho ricevuto la fotografia il biglietto ma le due cose non vanno d'accordo nella lettera ti lamenti quasi piagnucoli come un bimbetto di cinque anni mentre sei un ragazzo grande e forte e dovresti affrontare gli avvenimenti con coraggio e con tranquillità tu stesso mi hai scritto una volta che la scuola che frequenti serve per non perdere un anno di studio e ti par poco poi bisogna vedere se i rimproveri che ti fanno non sono meritati in ogni caso se bisogna fare una cosa bisogna farla senza lamentarsi senza guaire come i cagnolini dal latte in modo da trarne tutto il profitto a me non piace che un ragazzo come te si lamenti mentre nella fotografia pare che tu sia risoluto tranquillo nella volontà di raggiungere il tuo scopo così mi piaci molto e ti faccio tanti auguri ti abbraccio antonio caro giuliano ho ricevuto la tua lettera e la cartolina illustrata coi gattini mi meraviglio che tu e delio non abbiate ancora pensato a fare una bajur per la lampadina elettrica con 50 centesimi di filo d'ottone o di ferro sottile e con qualche pezzo di stoffa a colori o anche della carta oleata si può fare una bajur comodissimo in modo che la luce non stanchi troppo gli occhi la bajur può essere completo perché tutta la luce sia tutita o parziale e mobile in modo da dirigere l'ombra dove si crede più opportuno ho ricevuto alcune tue fotografie e vorrei sapere che esercizi sei fare sulla spalliera svedese così almeno si chiama in italiano dove sei arrampicato insieme coi tuoi amici ti bacia il tuo bappo antonio studiare è difficile carissimo giuliano ti faccio tanti auguri per l'andamento del tuo anno scolastico sarai molto contento se tu mi spiegassi in che consistono le difficoltà che trovi nello studiare mi pare che se tu stesso riconosci di avere delle difficoltà queste non devono essere molto grandi e potrai superarle con lo studio questo non è sufficiente per te forse sei un po disordinato ti distrai la memoria non funziona e tu non sai farla funzionare dormi bene quando giochi pensi a ciò che hai studiato o quando studi pensi al gioco ormai sei un ragazzo formato e puoi rispondere alle mie domande con esattezza alla tua età io ero molto disordinato andavo molte ore a scorrazzare nei campi però studiavo anche molto bene perché avevo una memoria molto forte e pronta e non mi sfuggiva nulla di ciò che era necessario per la scuola per dirti tutta la verità debbo aggiungere che ero furbo e sapevo cavarmela anche nelle difficoltà pur avendo studiato poco ma il sistema di scuola che io ho seguito era molto arretrato inoltre la quasi totalità dei condiscepoli non sapeva parlare l'italiano che molto male estentatamente e ciò mi metteva in condizioni di superiorità perché il maestro doveva tener conto della media degli allievi e il saper parlare l'italiano era già una circostanza che facilitava molte cose la scuola era in un paese rurale e la grande maggioranza degli allievi era di origine contadina carissimo sono certo che mi scriverai senza interruzione e mi terrai al corrente della tua vita ti abbraccio antonio il regalo del babbo caro giuliano così ti sei liberato dal collettivo e vai al campo tornerai a scuola perché scrivere proprio all'ultimo momento in attesa della macchina ti abbraccio tanto per la tua festa e ti mando un orologino sperando che ti faccia riflettere al tempo e quindi scrivere non all'ultimo momento ti bacio antonio studiar bene caro giuliano come va il tuo cervellino la tua lettera mi è piaciuta molto il tuo modo di scrivere è più fermo di prima ciò che mostra che tu stai diventando una persona grande mi domandi ciò che mi interessa di più devo rispondere che non esiste niente che mi interessa di più cioè che molte cose mi interessano molto nello stesso tempo per esempio per ciò che ti riguarda mi interessa che tu studi bene con profitto ma anche che tu sia forte e robusto e moralmente pieno di coraggio e di risolutezza ecco quindi che mi interessa che tu riposi bene mangi con appetito eccetera tutto è collegato e in tessuto strettamente se un elemento del tutto viene a mancare o fa difetto l'intiero si spappola perciò mi è dispiaciuto che tu abbia scritto di non poter rispondere alla questione se vai con risolutezza verso la tua meta che in questo caso significa studiar bene essere forte eccetera perché non puoi rispondere se dipende da te il disciplinarti il resistere agli impulsi negativi eccetera ti scrivo seriamente perché ormai vedo che non sei più un ragazzino e anche perché tu stesso una volta mi hai scritto che vuoi essere trattato con serietà a me pare che tu abbia molte forze latenti nel cervello la tua stessa espressione che non puoi rispondere alla domanda significa che rifletti e sei responsabile di ciò che fai e scrivi e poi si vede anche dalla fotografia che ho ricevuto che c'è molta energia in te e viva giuliano ti voglio molto bene antonio disegna come vuoi caro giuliano disegna come vuoi per ridere e per divertirti e non seriamente come se facessi un compito che non ti piace vorrei però vedere qualcuno dei tuoi disegni che fai per la scuola questi disegni come li fai con serietà oppure come quelli che fai per ridere mi pare davvero che alla scuola le cose ti vadano abbastanza bene e per la salute come va corri giochi e ti diverti solo a scarabocchiare sulla carta figure non fatte seriamente ti ringrazio dei tuoi auguri ti bacio un raro animale caro giuliano i tuoi disegni mi sono piaciuti molto perché sono tuoi sono anche molto originali e credo che la natura non abbia mai inventate delle cose così stupefacenti il quarto disegno è la rappresentazione di un animale straordinario non può essere uno scarafaggio perché troppo grande e con solo quattro lunghe zampe in movimento come quelle dei grandi quadrupedi ma non è neppure un cavallo perché non ha orecchie visibili anche nel primo animale da te disegnato non si vedono orecchie e così anche uno degli uomini non ha orecchie potrebbe essere un leone addomesticato e trasparente trasparente perché del cavalcatore si vedono tutte e due le gambe mi piace il fatto che i tuoi uomini possono camminare sulla punta dei piedi nei posti più difficili sulla cima del ramo di un albero e sulla testa degli animali forse perciò l'animale ha perso le orecchie caro giuliano ti dispiace che io mi diverta sui tuoi disegni essi mi piacciono davvero così come sono ma tu devi mandarmi non dei disegni fatti sul momento ma di quelli che fai per la scuola antonio barbabucco caro giuliano ho ricevuto con molto entusiasmo i tuoi nuovi disegni si vede che sei allegro e quindi credo che tu sia in salute ma dimmi sai fare altri disegni che non siano per burla non mi hai scritto se a scuola fanno imparare il disegno e se ti piace disegnare anche sul serio io da ragazzo disegnavo molto ma i disegni erano piuttosto lavoro di pazienza nessuno mi aveva insegnato riproducevo ingrandendoli le figure e i quadretti di un giornalino cercavo anche i colori fondamentali con un mio sistema non difficile ma che domandava molta pazienza ricordo ancora un quadretto che mi costò almeno tre mesi di lavoro un contadinello tutto vestito era caduto in un tino pieno d'uva pronto per la pigiatura e una contadinella tutta rotondetta e grassottella lo guardava traspaventata e divertita il quadretto apparteneva a una serie di avventure in cui il protagonista era un terribile caprone barbabucco che cozzando all'improvviso e a tradimento faceva volare via i suoi nemici e i ragazzi che gli avevano dato la baia le conclusioni erano sempre allegre come nel mio quadretto come mi divertivo a ingrandire il disegnino misure col doppio decimetro e col compasso prove riprove con la matita eccetera i fratelli e le sorelle guardavano ridevano ma preferivano correre e gridare e mi lasciavano alle mie esercitazioni caro giuliano ti bacio caro delio i tuoi bigliettini diventano sempre più corti e stereotipati io credo che tu abbia abbastanza tempo per scrivere più a lungo e in modo più interessante non c'è nessun bisogno di scrivere all'ultimo momento in fretta in fretta prima di andare a spasso ti pare non credo neppure che ti possa far piacere che il tuo babbo ti giudichi dai tuoi bigliettini come uno stupidello che si interessa solo della sorte del suo pappagalluccio e fa sapere che sta leggendo un libro qualsiasi io credo che una delle cose più difficili alla tua età è quella di star seduto dinanzi a un tavolino per mettere in ordine i pensieri e pensare addirittura e per scriverli con un certo garbo questo è un apprendissaggio talvolta più difficile di quello di un operaio che vuole acquistare una qualifica professionale e deve incominciare proprio alla tua età ti abbraccio forte antonio mantenere le promesse caro giuliano ho ricevuto tue notizie dalle lettere della mamma e di nonna ma perché tu non scrivi qualche parola io sono molto contento quando ricevo una tua lettera e chissà quante cose tu potresti scrivermi sulla scuola sui tuoi compagni sui tuoi insegnanti sugli alberi che vedi sui tuoi giochi eccetera e poi tu avevi promesso di scrivermi qualche cosa ogni giorno di vacanza bisogna sempre mantenere le promesse anche se costa qualche sacrificio e immagino che per te non deve essere un grande sacrificio scrivere qualche cosa caro ti abbraccio antonio più di mezzo soldato carissimo giuliano finalmente mi hai scritto qualche riga ti faccio tanti complimenti per la tua festa sei già grande più di mezzo soldato ti è piaciuto l'orologio mi scriverai come ti ritrovi a scuola ti abbraccio antonio omero dormicchia caro giuliano hai letto solo mezza novella di wells e già vorresti giudicare tutta l'opera di questo scrittore che ha scritto decine e decine di romanzi raccolte di novelle saggi storici eccetera la più bella o la più brutta o quella che rappresenta alla media delle possibilità dell'autore il più grande scrittore dell'antica grecia fu omero e lo scrittore latino orazio ha scritto che anche omero qualche volta dormicchia certo wells in confronto di omero dormicchia almeno 360 giorni all'anno ma potrebbe darsi che negli altri cinque o sei giorni quando l'anno è bisestile fosse sveglio del tutto e avesse scritto qualcosa di piacevole e di resistente alla critica anche tu spesso non sei molto ordinato la tua lettera è scritta in fretta con molte parole lasciate a metà eppure io credo che tu possa scrivere molto meglio con più ordine con più attenzione perciò io non ti giudicherò da questa lettera e non dirò ma guarda che asinello di figlio caro giuliano non prendertela e scrivi e rafforzerà i tuoi giudizi mi dispiace di non poter discutere con te a viva voce non credere che io sia molto pedante mi piacerebbe ridere e scherzare con te e con delio e parlare di tante cose che interessavano molto anche me quando ero un ragazzo ti abbraccio teneramente antonio impara a essere ordinato caro giuliano questa volta non ho ricevuto nessuna tua lettera mi dispiace sarei contento se tu mi scrivessi molto anzi avevi promesso mi pare di scrivere qualche cosa ogni giorno di vacanza e poi mandarmi lo scritto insieme alla lettera di delio si vede che sei un po disordinato e che dimentichi ciò che era per te un impegno puoi scrivermi di tutto e io ti risponderò seriamente ormai sei un ragazzo già grandetto e devi avere un certo senso di responsabilità che ne pensi scrivimi ciò che fai nella scuola se impari con facilità ciò che ti interessa ma se una cosa non ti interessa e tuttavia devi impararla come fai e quali giochi preferisci caro giuliano ogni momento della tua vita interessa me ti abbraccio antonio ogni cosa è seria carissimo giuliano tu vuoi che ti scriva di cose serie molto bene ma cosa sono le cose serie che vuoi leggere nelle mie lettere tu sei un ragazzo e per un ragazzo anche le cose per i ragazzi sono molto serie perché sono in rapporto con la sua età con le sue esperienze con le capacità che le esperienze e la riflessione su di esse gli hanno procurato del resto prometti di scrivermi qualche cosa ogni cinque giorni sono molto contento se lo farai dimostrandomi di aver così molta forza di volontà io ti risponderò sempre se potrò e molto seriamente caro io ti conosco solo per le tue lettere e per le notizie che mi mandano di te i grandi so che sei un bravo ragazzo ma perché non mi hai scritto nulla del tuo viaggio al mare credi che non sia una cosa seria tutto ciò che ti riguarda è per me molto serio e mi interessa molto anche i tuoi giochi ti abbraccio antonio divertiamoci insieme caro giuliano come stai nella nuova scuola cosa ti piace di più il vivere accanto al mare o il vivere vicino alle foreste tra i grandi alberi se vuoi farmi un piacere dovresti descrivermi una tua giornata da quando ti levi dal letto fino a quando la sera ti riaddormenti così io potrò immaginare meglio la tua vita vederti in quasi tutti i tuoi movimenti descrivimi anche l'ambiente i tuoi compagni i maestri gli animali tutto scrivi un po per volta così non ti stancherai e poi scrivi come se volessi farmi ridere per divertirti anche tu caro ti abbraccio antonio sei un giovinetto giuliano evviva ho ricevuto una tua fotografia e sono stato molto felice di vedere la tua personcina però devi essere molto cresciuto dall'altra fotografia che mi è stata spedita tempo fa cresciuto e cambiato sei proprio un giovinetto ormai perché non mi scrivi più aspetto una tua lettera lunga ti abbraccio antonio il primo orologio caro giuliano vedo con piacere dalla tua lettera che scrivi meglio hai già una scrittura dal ragazzo grande perché ti è piaciuto il film sui figli del capitano grant devi scrivermi un po più a lungo e descrivermi la tua vita a cosa pensi quali libri ti piacciono eccetera sono contento che l'orologio ti piaccia ma non aver tanto timore di portarlo anche fuori se è bene assicurato al polso non si può perdere a meno che quando sei fuori non ti abbandoni a esercizi violenti di boxe e simili quali giochi preferisci caro giuliano ti abbraccio antonio il pappagallo sta bene caro delio mi hai scritto quattro linee che sembrano estratte da una grammatica per stranieri il pappagallo sta bene fagli i miei più vivi rallegramenti auguri e cosa pensi di piquic e i tuoi esami come si presentano senti un po di tremarella o sei sicuro di te stesso da qualche tempo mi scrivi poco poco e di cose poco interessanti perché scrivi più a lungo ti bacio antonio la scimmia pensatrice caro delio vedo che ti interessi molto alle scimmie la fotografia che mi mandi è ben riuscita deve trattarsi di una scimmia pensatrice penserà alle carrube che può mangiare e alle altre cose che le passerà come pasto la direzione dello zoo e il pappagallo ho parlato dell'insalatina ma mi riferivo ai passeri cosa mangia il tuo uccello vegetali teneri come l'insalata oppure frutta secca e legumi come le fave le noci i ceci le mandorle quando ero ragazzo abbiamo avuto in casa una cocorita che veniva dall'abissinia tutto il giorno rosicchiava fave e ceci le mandorle e le noci ce le mangiavamo noi ed era molto antipatica perché non sapeva far altro e non era bella per nulla aveva un testone grosso come tutto il corpo e il suo colore era un grigio tendente al giallo spero che il tuo uccelletto sia molto più bello e simpatico scrivimi qualche cosa sulle tue letture ti faccio tanti complimenti per gli studi e per il distintivo che hai avuto ti abbraccio caramente Antonio il cane bambinello caro Delio perché non mi parli più del tuo pappagalletto è ancora vivo forse non ne parli più perché io una volta ho osservato che ne parlavi sempre allegro Delio Tania vuole che io ti scriva che alla tua età avevo un cagnolino e che ero diventato mezzo matto per la contentezza di averlo vedi è vero che un cane anche se piccolo piccolo dà molte più soddisfazioni di un pappagallo ma tu forse credi il contrario perché gioca col padrone si affeziona il mio si vede che era rimasto un cane bambinello perché per mostrarmi il suo entusiasmo si metteva sulla schiena e si faceva la pipì addosso quante insaponature era proprio piccolo tanto che non riuscì per molto tempo a salire i gradini delle scale aveva il pelo nero e lungo e sembrava un barbone in miniatura io lo avevo tosato come un leoncino ma non era obiettivamente bello anzi era piuttosto brutto brutto assai adesso che ci penso ma come mi faceva divertire e come gli volevo bene il mio gioco favorito era questo quando andavamo a passeggio in campagna lo mettevo su un sasso sporgente e mi allontanavo senza che lui che guardava e mugolava osasse saltare io mi allontanavo a zigzag poi mi nascondevo in un fosso o in una cunetta il cane prima strillava poi riusciva a trovare il modo di scendere e correva in caccia questo mi divertiva perché il poveretto che allora d'altronde era ancora molto giovane guardava latrando dietro tutte le pietre si affacciava alle piccole ma grandi per lui fosse e impazziva che festa quando finalmente mi facevo ritrovare e che abbondanza di pipì caro adesso mi scriverai del tuo pappagalletto ti abbraccio antonio il pappagallo malato caro delio avevo ricevuto la penna del pappagalletto e i fiorellini che mi sono piaciuti ma non riesco a immaginare come sia l'uccelletto e perché si strappi delle penne così grosse forse il caldo artificiale gli ha fatto male alla pelle forse non ha nulla di grave e con la buona stagione gli passerà ogni prurito forse bisogna dargli da mangiare qualcosa di molto fresco che sostituisca ciò che i suoi congeneri mangiano nel paese d'origine perché ho letto che gli uccelletti tenuti in casa con cibi non adatti soffrono di avitaminosi perdono le penne e hanno una specie di rogna che non è contagiosa ho io stesso visto un passero così mal ridotto perché mangiava sempre mollica di cattivo pane guarire con l'aggiunta al menù di un po di insalatina verde non mi ricordo più in che senso ti ho parlato della fantasia forse accennavo alla tendenza di fantasticare a vuoto di costruire dei grattacieli sulla testa di uno spillo eccetera caro ti abbraccio forte Antonio le penne ricrescono caro Delio questa volta non ho ricevuto nessun tuo biglietto dalla fotografia di Giuliano ho potuto vedere un angolo della tua stanza con la gabbia del pappagallo peccato che non sia possibile discernere l'uccelletto spero che con l'insalatina fresca che deve essere tritata minutamente e il miglio esso guarisca bene e le penne ricrescano lunghe e lucide ti bacio Antonio studia la storia carissimo Delio mi sento un po stanco e non posso scriverti molto tu scrivimi sempre e di tutto ciò che ti interessa nella scuola io penso che la storia ti piace come piaceva a me quando avevo la tua età perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini quanti più uomini è possibile tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono fra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi non può non piacerti più di ogni altra cosa ma è così ti abbraccio Antonio il cervello dello struzzo caro Delio non ho letto molto di Wells perché i suoi libri non mi piacciono granché credo che se anche tu non li leggi non sarà una gran perdita per la tua formazione intellettuale morale anche il suo libro di storia universale non mi è molto piaciuto sebbene negli cerchi e in ciò rappresenta una certa novità almeno nella letteratura storica dell'Europa occidentale di allargare l'orizzonte storico tradizionale dando importanza non solo ai greci agli egiziani ai romani eccetera ma anche ai mongoli ai cinesi agli indiani eccetera come scrittore di fantasia mi pare che egli sia troppo meccanico o stopposo come storico gli manca la disciplina intellettuale l'ordine e la mentalità del metodo fammi sapere se ti piace questo mio modo di scriverti e se capisci tutto non ho risposto alla tua lettera precedente mi è piaciuta la tua idea di vedere il mondo popolato di elefanti diritti sulle zampe posteriori col cervello molto sviluppato certo per stare in grande quantità sulla superficie del globo chissà che enormi grattacieli avrebbero dovuto costruire ma il cervello senza mani a che avrebbe servito gli struzzi hanno la testa alta e libera stanno solo su due piedi ma il loro cervello non si è molto sviluppato per questo si vede che per l'uomo nella sua evoluzione si sono concentrate molte condizioni favorevoli nel senso di aiutarlo a diventare ciò che era anche prima che si sviluppassero la volontà definita verso un fine e l'intelligenza sufficiente per organizzare i mezzi necessari per raggiungere il fine stesso la quantità diventa qualità per l'uomo e non per gli altri esseri viventi a quanto pare scrivimi a lungo ti abbraccio antonio l'elefante motorizzato carissimo delio io non so se l'elefante può o poteva evolversi fino a diventare sulla terra un essere capace come l'uomo di dominare le forze della natura e di servirsene per i suoi propri fini in astratto concretamente l'elefante non ha avuto lo stesso sviluppo dell'uomo e certo non l'avrà più perché l'uomo si serve dell'elefante mentre l'elefante non può servirsi dell'uomo neanche per mangiarselo ciò che pensi delle possibilità dell'elefante di adattare cioè le sue zampe per il lavoro pratico non corrisponde alla realtà infatti l'elefante ha come elemento tecnico la proboscide e dal punto di vista elefantesco se ne serve a meraviglia per strappare alberi per difendersi in certe circostanze eccetera tu mi avevi scritto che ti piaceva la storia e così siamo giunti alla proboscide dell'elefante io credo che per studiare la storia non bisogna troppo fantasticare su ciò che sarebbe successo se se l'elefante si fosse drizzato sulle gambe posteriori per dare maggior sviluppo al cervello se se e se l'elefante fosse nato con le ruote sarebbe stato un tramvai naturale e se avesse avuto le ali immagina un'invasione di elefanti come quella delle cavallette è già molto difficile studiare la storia realmente svoltasi perché di una gran parte di essa si è perduto ogni documento come si può perdere il tempo a stabilire ipotesi che non hanno fondamento e poi nelle tue ipotesi c'è troppo antropomorfismo perché l'elefante doveva evolversi come l'uomo chissà se qualche saggio vecchio elefante o qualche giovinetto ghiribizzoso elefantino dal suo punto di vista non fa delle ipotesi sul perché l'uomo non è diventato un proboscidato aspetto una tua lunga lettera su questo argomento qui non ha fatto molto freddo ci sono sempre dei fiori sbocciati non ho con me nessun uccelletto ma vedo sempre nel cortile due coppie di merli e i gatti che si appiattano per prenderli ma i merli non pare se ne preoccupino e sono sempre allegri ed eleganti nelle loro mosse ti abbraccio antonio un calcio ben dato caro delio questa volta non mi parli degli elefanti come portatori di un'eventuale civiltà gli elefanti ce li hai di sapone e in questo senso possono portare la civiltà o un aspetto di essa nella sala da bagno poveri elefanti è vero che mi parli di tante cose e io dovrei iniziare con te una serie di polemiche benissimo ma quali cose ti interessano di più una volta mi hai scritto che ti interessava la storia ma poi non sei stato capace di continuare la questione e hai scantonato sugli elefanti adesso mi pare che ti interessi alle scimmie come progenitori degli uomini ma anche in questo senso mi par di poter dire che a te piace più la fantasticheria che la storia e che sarebbe più opportuno studiare la storia reale quella che si può scrivere sulla base di documenti ben precisi e concreti il fantasticare su delle ipotesi scientifiche era proprio degli uomini di 50 anni fa che vivevano in condizioni molto difficili di lotta ideologica oggi molte questioni sono cadute nel nulla perché la vita ha superato e protagonista e antagonista e ha creato il costruttore purtroppo è difficile liberarsi delle cose morte ma tu dacci un calcio nel mezzo e studia solo le cose concrete ti abbraccio carissimo delio puoi scrivere su pushkin quando vuoi anzi è meglio che ci pensi bene in modo da darmi una prova conclusiva delle tue capacità a pensare a ragionare e a criticare cioè a discernere il vero dal falso il certo dal possibile dal verosimile non devi però diventare nervoso io conosco la tua età la tua preparazione e quindi saprò giudicare obiettivamente anche se ti voglio bene molto molto e quindi essere obiettivo sia piuttosto difficile i libri su pushkin e gorky sarà difficile trovarli ma poi cosa ne faresti ormai sono invecchiati mentre ora c'è tutta una letteratura fresca sui due scrittori letteratura criticamente elaborata su scoperte fatte negli archivi aperti a una più giovane e valorosa filologia sono tanto felice che tu stia bene e che non ti stanchi nello studiare caro ti abbraccio e ti incarico di abbracciare tanto la mamma da parte mia antonio i cinque minuti del babbo caro delio aspetto che tu risponda alla questione su pushkin senza fretta tu devi ferrarti bene e fare del tuo meglio come va la scuola per te e per giuliano adesso che avete le annotazioni ogni mese sarà più facile il controllo sull'andamento dei corsi ti ringrazio di avere abbracciato forte forte la mamma per parte mia penso che devi farlo ogni giorno ogni mattino io penso sempre a voi così immaginerò ogni mattino ecco i miei figli e giulia pensano a me in questo momento tu sei il fratello maggiore ma devi dirlo anche a giuliano così ogni giorno avrete i cinque minuti del babbo cosa ne pensi ti bacio antonio i geni sono pochi caro delio ho saputo da mamma giulia che la mia ultima lettera o anche altre ti ha procurato dispiacere perché non me ne hai scritto nulla quando nelle mie lettere qualcosa ti dispiace è bene che tu me lo faccia sapere e mi spieghi le tue ragioni tu mi sei molto caro e io non voglio procurarti nessun dolore sono tanto lontano e non posso accarezzarti e aiutarti come vorrei a risolvere le questioni che nascono nel tuo cervello devi ad esempio ripetermi la questione che una volta mi avevi posto riguardo a cekov e alla quale non ho risposto io non me ne ricordo proprio per nulla se tu sostenevi che cekov è uno scrittore sociale avevi ragione ma una ragione che non deve inorgoglirti perché già aristotele aveva detto che tutti gli uomini sono animali sociali credo che tu volevi dire di più che cioè cekov esprimeva una determinata situazione sociale esprimeva alcuni aspetti della vita del suo tempo e li esprimeva in modo da dover essere considerato uno scrittore progressivo naturalmente non si può dire tutto di cekov in poche parole e così su turgeniev tu osservi che il giornale dei pionieri nel passato dedicava molto spazio a tal sto e poco quasi nulla a gorghi adesso che gorghi è morto e si sente il dolore della sua perdita ciò può apparire una cosa non giusta ma bisogna giudicare con spirito critico in ogni momento e allora non bisogna dimenticare che tal sto è stato uno scrittore mondiale uno dei pochi scrittori di ogni paese che ha raggiunto la maggiore perfezione nell'arte e ha suscitato e suscita torrenti di emozioni dappertutto anche in traduzioni pessime anche in uomini e donne che sono abrutiti dalla fatica e hanno una cultura elementare tal sto è stato davvero un portatore di civiltà e di bellezza e nel mondo contemporaneo ancora nessuno lo ha eguagliato per trovargli compagnia occorre pensare a omero a eschilo a dante a shakespeare a ghete a cervantes e altri pochissimi sono contento della tua lettera e più contento che ti senti meglio che ti arrampichi sui muri per vedere l'eclissi che farai bagni e delle passeggiate nel bosco e che imparerai l'italiano anche il robustirsi è fare qualche cosa caro ti abbraccio forte antonio l'intrepido pioniere cara giulia puoi dire a delio che la notizia che mi ha mandato mi ha interessato moltissimo perché è importante oltremodo seria tuttavia spero che qualcuno con un po di gomma abbia riparato il mal destro fatto da giuliano e che pertanto il cappello non sia già diventato carta straccia ti ricordi come a roma delio credesse che io potessi accomodare tutte le cose rotte certo adesso se ne è dimenticato e lui ha la tendenza ad aggiustare questo secondo me sarebbe un indizio di costruttività di carattere positivo più che il gioco del meccano tu sbagli se credi che io da piccolo avessi tendenze letterarie e filosofiche come hai scritto ero invece un intrepido pioniere e non uscivo di casa senza avere dei chicchi di grano e dei fiammiferi avvolti in pezzettini di tela cerata per il caso che potessi essere sbattuto in un'isola deserta e abbandonato ai miei soli mezzi ero poi un costruttore ardito di barche e di carretti e conoscevo a menadito tutta la nomenclatura marinaresca il mio più grande successo fu quando un tolaio del paese mi domandò il modello di carta di una superba goletta due ponti per riprodurla in latta ero anzi ossessionato da queste cose perché a sette anni avevo letto robinson e l'isola misteriosa credo anzi che una vita infantile come quella di 30 anni fa oggi sia impossibile oggi i bambini quando nascono hanno già 80 anni come il laozze cinese la radio e l'aeroplano hanno distrutto per sempre il robinsonismo che è stato il modo di fantasticare di tante generazioni l'invenzione stessa del meccano indica che il bambino si intellettualizza rapidamente il suo eroe non può essere robinson ma il poliziotto o il ladro scienziato almeno nell'occidente cara ti abbraccio coi bambini antonio i tre giganti carissima giulia nella nostra corrispondenza talvolta manca una corrispondenza effettiva e concreta se a questo si aggiunge l'elemento tempo che fa dimenticare quello che si è scritto precedentemente l'impressione del puro monologo si rafforza non ti pare ricordo una novellina popolare scandinava tre giganti abitano nella scandinavia lontani l'uno dall'altro come le grandi montagne dopo migliaia d'anni di silenzio il primo gigante grida agli altri due sento muggire un armento di vacche dopo 300 anni il secondo gigante interviene ho sentito anch'io il muggio e dopo altri 300 anni il terzo gigante intima se continuate a far chiasso così me ne vado beh c'è un vento di scirocco che dà l'impressione di essere ubriachi cara ti abbraccio teneramente con i nostri bambini i giochi di slivi cara giulia mi ha interessato ciò che hai scritto di delio scolaro della sua serietà interiore che non è disgiunta da un certo amore per l'allegria sento con molto pungente rammarico d'essere stato privato della partecipazione allo sviluppo della personalità e della vita dei due bambini eppure io diventavo subito amico dei bambini e riuscivo a interessarli ricordo sempre una nipotina della mia padrona di casa a roma aveva quattro anni e aveva un nome molto difficile preso dall'onomastica turca non riusciva ad aprire la porta della mia camera dove si avvicinava di soppiatto perché la nonna le aveva detto che non bisognava disturbarmi perché scrivevo sempre bussava piano piano timidamente e quando io domandavo chi è rispondeva strivi vuoi giocare poi entrava offriva la guancia da baciare e voleva le facessi gli uccellini o dei quadri bizzarri ottenuti da gocce di inchiostro lanciate a caso sulla carta carissima ti abbraccio teneramente antonio un colpo di sole carissima tania una mia rosa ha preso una terribile insolazione tutte le foglie e le parti più tenere sono bruciate e carbonizzate ha un aspetto desolato e triste ma caccia fuori nuovamente le gemme non è morta almeno finora la catastrofe solare era inevitabile perché potei coprirla solo con della carta che il vento portava via sarebbe stato necessario avere un bel mazzo di paglia che è cattiva conduttrice del calore e nello stesso tempo ripara dei raggi diretti in ogni modo la prognosi è favorevole a eccezione di complicazioni straordinarie i semi hanno tardato molto a sortire in pianticelle tutta una serie si intestardisce a fare la vita sotterranea certo erano semi vecchi e in parte tarlati quelli usciti alla vita del mondo si sviluppano lentamente quando ti ho detto che una parte dei semi erano bellissimi volevo dire che erano utili da mangiare infatti alcune pianticelle rassomigliano stranamente al prezzemolo e alle cipolline più che i fiori a me ogni giorno viene la tentazione di tirarle un po per aiutarle a crescere ma rimango incerto tra le due concezioni del mondo e dell'educazione se lasciar fare la natura che non sbaglia mai ed è fondamentalmente buona o se sforzare la natura introducendo nell'evoluzione la mano esperta dell'uomo e il principio d'autorità finora l'incertezza non è finita e nel capo mi sonano le due ideologie le sei piantine di cicoria si sono subito sentite a casa loro e non hanno avuto paura del sole già cacciano fuori il frutto che darà i semi per le messi future le dalie e il bambù dormono sotterra e non hanno ancora dato segni di vita le dalie specialmente credo siano veramente spacciate poiché siamo su questo argomento voglio pregarti di mandarmi ancora qualche qualità di semi uno di carote ma della qualità detta pastinaca che è un piacevole ricordo della mia prima fanciullezza a sassari ne vendono di quelle che pesano mezzo chilo e prima della guerra costavano un soldo facendo una certa concorrenza alla liquirizia due di piselli tre di spinaci quattro di sedani su un quarto di metro quadrato voglio mettere 4 5 semi per qualità e vedere come vengono carissima ti abbraccio antonio la rosa guarita carissima tania sai la rosa si è completamente ravvivata dal 3 giugno al 15 di colpo ha cominciato a mettere occhi e poi foglie finché si è completamente rifatta verde adesso ha dei rametti lunghi già 15 centimetri ha provato anche a dare un bocciolino piccolo piccolo che però ad un certo punto ha illanguidito ed ora sta ingiallendo in ogni modo non è neanche escluso che qualche rosellina timida timida la conduca a compimento quest'anno stesso ciò mi fa piacere perché da un anno in qua i fenomeni cosmici mi interessano forse il letto come dicono al mio paese è posto secondo la direzione buona dei fluidi terrestri e quando riposo le cellule dell'organismo roteano all'unisono con tutto l'universo ho aspettato con grande ansia il solstizio d'estate e ora che la terra si inchina veramente si raddrizza dopo l'inchino verso il sole sono più contento la questione è legata col lume che portano la sera ed ecco trovato il fluido terrestre il ciclo delle stagioni legato ai solstizi agli equinozi lo sento come carne della mia carne la rosa è viva e fiorirà certamente perché il caldo prepara il gelo e sotto la neve palpitano già le prime violette insomma il tempo mi appare come una cosa corpulenta da quando lo spazio non esiste più per me cara tania finisco di divagare e ti abbraccio antonio cherubini senza ali cara tania ho ricevuto la fotografia dei bambini e sono stato molto contento come può immaginare sono stato anche molto soddisfatto perché mi sono persuaso coi miei occhi che essi hanno un corpo e delle gambe da tre anni non vedevo che solo delle teste e mi era cominciato a nascere il dubbio che essi fossero diventati dei cherubini senza le alette agli orecchi insomma ho avuto una impressione di vita più viva carissima ti abbraccio affettuosamente antonio la mia giornata carissima tania da qualche giorno ho cambiato di cella e di raggio il carcere è diviso in raggi prima ero al primo raggio tredicesima cella adesso sono al secondo raggio ventiduesima cella la mia vita trascorre su per giù come prima te la voglio descrivere un po minutamente così ogni giorno potrai immaginare ciò che faccio la cella è ampia come una stanza da studente a occhio la calcolo tre metri per quattro e mezzo e tre e mezzo d'altezza la finestra dà sul cortile dove si prende l'aria non è una finestra regolare naturalmente è una cosiddetta bocca di lupo con le sbarre all'interno si può vedere solamente una fetta di cielo non si può guardare nel cortile o lateralmente la disposizione di questa cella è peggiore della precedente che era esposta a sud sud ovest il sole si vedeva verso le 10 e alle due occupava il centro della cella con una striscia di almeno 60 centimetri nell'attuale cella che deve essere esposta a sud sud ovest il sole si vede verso le due e sta in cella fin tardi ma con una striscia di 25 centimetri in questa stagione più calda forse così andrà meglio inoltre l'attuale cella è posta sull'officina meccanica del carcere e si sente il rombo delle macchine ma mi abituerò la cella è molto semplice e molto complessa insieme ho una branda a muro con due materassi uno di lana la biancheria viene cambiata ogni 15 giorni circa ho un tavolino e una specie di comodino armadio uno specchio un catino e una brocca di ferro smaltato possiedo molti oggetti in alluminio acquistati alla rinascente che ha organizzato un reparto nel carcere possiedo alcuni libri miei ogni settimana ricevo in lettura otto libri della biblioteca del carcere doppio abbonamento al mattino mi levo alle sei e mezzo alle sette suonano la sveglia caffè toilette pulizia della cella prendo mezzo litro di latte e ci mangio un panino alle otto circa si va all'aria che dura due ore passeggio studio la grammatica tedesca leggo la signorina contadina di pushkin e imparo a memoria una ventina di righe del testo compro un giornale industriale commerciale e leggo qualche notizia economica il martedì compro il corriere dei piccoli che mi diverte il mercoledì la domenica del corriere il venerdì il guerrin meschino cosiddetto umoristico dopo l'aria caffè e ricevo tre giornali il pranzo arriva in ore disparate dalle 12 alle 3 riscaldo la minestra in brodo o asciutta mangio un pezzettino di carne se è di vitello perché non riesco ancora a mangiare la carne di manzo un panetto un pezzetto di formaggio la frutta non mi piace e un quarto di vino leggo un libro passeggio rifletto su tante cose alle 4 4 e mezzo ricevo altri due giornali alle 7 ceno la cena arriva alle 6 minestra due uova crude un quarto di vino il formaggio non riesco a raggiarlo alle 7 e mezzo suona il silenzio vado a letto e leggo dei libri fino alle 11 12 da due giorni verso le 9 bevo una chicchera di camomilla ti abbraccio antonio un po' di invidia cara giulia ho ricevuto la tua lettera le fotografie non mi sono ancora giunte spero che ci sarà anche la tua naturalmente voglio vedere anche te in gruppo coi bambini come nella fotografia dell'anno scorso perché nel gruppo c'è già qualcosa di movimentato di drammatico si colgono dei rapporti che possono essere prolungati immaginati in quadretti in episodi di vita concreta quando non c'è l'obiettivo del fotografo spianato d'altronde io credo di conoscerti abbastanza per immaginare altri quadretti ma non posso immaginare abbastanza le azioni e reazioni dei bambini nei rapporti con te poi sono invidioso perché non posso godere la prima freschezza delle impressioni sulla vita dei bambini e aiutarti a guidarli e a educarli cara ti abbraccio antonio il babi russa carissima tania una cosa che mi ha fatto molto ridere nell'ultima tua cartolina è la tua affermazione di sapere che io ci tengo a che mi si facciano gli auguri per il mio onomastico non so che ti abbia rivelato questo segreto che tenevo accuratamente nascosto tanto nascosto e tanto segreto che dall'età di sei anni non sapevo neppure più di custodire solo fino ai sei anni ho ricevuto dei regali per il mio onomastico però un altro segreto io ti voglio rivelare non sono mai riuscito a soddisfare e forse ai me non lo soddisferò mai il desiderio di mangiare una frittura mista di rognoni e di cervello di babi russa e di rinoceronte cara tania in ogni modo ti ringrazio degli auguri con la semplice avvertenza che il sant'antonio che mi protegge non è quello di giugno ma quello di gennaio accompagnato dalla specie europea del babi russa purtroppo il babi russa abita solo nelle isole della sonda e quindi è molto difficile da procurare specialmente sotto forma di cervello e rognoni freschi carissima tania ti abbraccio teneramente antonio 9 lire al mese cara tania mi dirigo da me da molto tempo e mi dirigevo da me già da bambino ho incominciato a lavorare da quando avevo 11 anni guadagnando ben 9 lire al mese ciò che del resto significava un chilo di pane al giorno per dieci ore di lavoro compresa la mattina della domenica e me la passavo a smuovere registri che pesavano più di me e molte notti piangevo di nascosto perché mi doleva tutto il corpo ho conosciuto quasi sempre solo l'aspetto più brutale della vita e me la sono sempre cavata bene o male neanche mia madre conosce tutta la mia vita e le traversie che ho passato cara tania ti abbraccio affettuosamente antonio senza la coda carissima tania io non sono mai stato un giornalista che vende la sua penna chi gliela paga meglio e deve continuamente mentire perché la menzogna entra nella sua qualifica professionale sono stato giornalista liberissimo sempre di una sola opinione e non ho mai dovuto nascondere le mie convinzioni per fare piacere a dei padroni è strano che tu vorresti da me una spiegazione del fatto che alcuni gruppi cosacchi credevano che gli ebrei avessero la coda si tratta di una barzelletta raccontatami da un ebreo commissario politico di una divisione d'assalto di cosacchi di orenburg durante la guerra russo polacca del 1920 questi cosacchi non avevano ebrei nel loro territorio e li concepivano secondo la propaganda clericale come esseri mostruosi che avevano ammazzato dio essi non volevano credere che il commissario politico fosse ebreo tu sei dei nostri gli dicevano non sei un ebreo sei pieno di cicatrici delle ferite toccate dalle lance polacche combatti insieme con noi gli ebrei sono un'altra cosa la questione delle razze non mi interessa così è senza valore il tuo accenno all'importanza dei sepolcri per ciò che riguarda la civiltà ciò è vero solo per i tempi antichi per i quali i sepolcri sono i soli monumenti non distrutti dal tempo e perché dentro i sepolcri accanto al defunto venivano messi gli oggetti della sua vita quotidiana in ogni caso questi sepolcri ci danno un aspetto molto limitato dei tempi in cui furono costruiti io non ho nessuna razza mio padre è di origine albanese mia madre è sarda per il padre e per la madre e la sardegna fu unita al piemonte solo nel 1847 dopo essere stata un feudo personale e un patrimonio dei principi piemontesi che la ebbero in cambio della sicilia che era troppo lontana e meno difendibile tuttavia la mia cultura è italiana fondamentalmente e questo è il mio mondo non mi sono mai accorto di essere dilaniato tra due mondi d'altronde nessuno in liguria si spaventa se un marinaio si porta al paese una moglie negra non vanno a toccarla col dito insalivato per vedere se il nero va via né credono che le lenzuola rimarranno tinte di nero ti abbraccio teneramente antonio vasellina l'elefante carissima giulia ho ricevuto le tue due lettere sono più tranquillo da quando ripreso a scriverti tania mi ha raccontato molto divertita che delio ha pensato di ungere con la vasellina un elefante di cui aveva sentito probabilmente la pelle ruvida sotto le dita a me pare non molto strano che un ragazzo pensi di ungere un elefante con la vasellina sebbene non credo che dal ragazzo potessero venirmi idee simili mi ha anche riferito che giuliano vuol sapere tutto ciò che si riferisce a me penso che ciò sia in relazione col fatto di aver visto un mio ritratto in un parco di cultura carissima quando penso a tutte queste cose e alla nostra vita che da tanti anni quasi un quarto della mia esistenza e più di un quarto della tua si svolge così staccata dalla mia non mi sento molto allegro eppure occorre resistere cercare di acquistare forza d'altronde ciò che è accaduto non era del tutto imprevedibile tu che ricordi tante cose del passato ricordi quando ti dicevo che andavo in guerra non era forse molto serio da parte mia ma era vero e in realtà così io sentivo e ti volevo molto molto bene sii forte e fa di tutto per star meglio ti abbraccio teneramente coi nostri ragazzi antonio come in guerra carissima teresina il peggiore guaio della mia attuale vita è la noia almeno i primi tre mesi dopo l'arresto furono molto movimentati sballottato da un estremo all'altro della penisola sia pure con molte sofferenze fisiche non avevo tempo di annoiarmi sempre nuovi spettacoli da osservare nuovi tipi di eccezione da catalogare davvero mi pareva di vivere in una novella fantastica ma ormai da più di un anno sono fermo a milano in ozio forzato mi preoccupa molto lo stato d'animo della mamma d'altronde non so come fare per rassicurarla e consolarla vorrei infonderle la convinzione che io sono tranquillissimo come realmente sono ma vedo che non mi riesce per lei il mio incarceramento è una terribile disgrazia alquanto misteriosa nelle sue concatenazioni di cause ed effetti per me è un episodio della lotta politica che si combatteva e si continuerà a combattere non solo in italia ma in tutto il mondo per chissà quanto tempo ancora io sono rimasto preso così come durante la guerra si poteva cadere prigionieri sapendo che questo poteva avvenire e che poteva avvenire anche di peggio ma temo che anche tu la pensi come la mamma saluti affettuosi a tutti vi abbraccio antonio il pennino gratta carissima tania hai rimandato la fotografia di delio a mia madre come avevi promesso farai molto bene la poveretta molto sofferto per il mio arresto e credo che soffra tanto più in quanto nei nostri paesi è difficile comprendere che si può andare in prigione senza essere né un ladro né un imbroglione né un assassino essa vive in condizioni di spavento permanente fin dallo scoppio della guerra tre miei fratelli erano al fronte e aveva e da una frase sua i miei figli li macelleranno frase che in sardo è terribilmente più espressiva che in italiano fagherà pezza pezza è la carne che si mette in vendita mentre per l'uomo si adopera il termine carre non so proprio come consolarla carissima tania non riesco a scriverti mi hanno ancora dato un pennino che gratta la carta e mi obbliga a un vero acrobatismo digitale attendo tue lettere ti abbraccio antonio quinto natale carissima mamma ecco il quinto natale che passo in privazione di libertà e il quarto che passo in carcere veramente la condizione di coatto in cui passai il natale del 26 ad ustica era ancora una specie di paradiso della libertà personale in confronto alla condizione di carcerato ma non credere che la mia serenità sia venuta meno sono invecchiato di quattro anni non rido più di gusto come una volta ma credo di essere diventato più saggio e di aver arricchito la mia esperienza degli uomini e delle cose del resto non ho perduto il gusto della vita tutto mi interessa ancora e sono sicuro che se anche non posso sgranocchiare fave arrostite tuttavia non proverei dispiacere a vedere e sentir gli altri a sgranocchiare dunque non sono diventato vecchio ti pare si diventa vecchi quando si comincia a temere la morte e quando si prova dispiacere a vedere gli altri fare ciò che noi non possiamo più fare in questo senso sono sicuro che neanche tu sei diventata vecchia nonostante la tua età sono sicuro che sei decisa a vivere a lungo per poterci rivedere tutti insieme e per poter conoscere tutti i tuoi nipotini finché si vuol vivere finché si sente il gusto della vita e si vuole raggiungere ancora qualche scopo si resiste a tutte le malattie devi persuaderti però che occorre anche risparmiare un po le proprie forze e non intestarsi a fare dei grandi sforzi come quando si era di primo pelo tanti auguri a tutti e saluti a tutti di casa ti abbraccio teneramente Antonio pane di casa carissima teresina il giorno di natale ho ricevuto il tuo pacco di alla mamma che era tutto in ordine e che nulla si è guastato anche il pane era ancora fresco e l'ho mangiato con molto gusto si sentiva il sapore del grano turco sardo molto buono credo che non ne mangiavo da 15 o 16 anni le notizie sulle condizioni di salute della mamma mi hanno dato molto dispiacere sono sicuro che avrete molta pazienza con lei se ci pensi bene e la si meriterebbe ben altro che della pazienza perché ha lavorato per noi tutta la vita sacrificandosi in modo inaudito se fosse stata un'altra donna chissà che fine disastrosa avremmo fatto tutti fin da bambini forse nessuno di noi oggi sarebbe vivo ti pare ti abbraccio affettuosamente con la mamma e tutti di casa Antonio pesci contro zanzare carissima mamma ho ricevuto la tua lettera e sono stato molto contento nel sapere che ti sei rinforzata e che andrai almeno per un giorno alla festa di san serafino come mi piaceva dal ragazzo la valle di tirso sotto san serafino stavo ore e ore seduto su una roccia ad ammirare quella specie di lago che il fiume formava proprio sotto la chiesa per il piccolo sbarramento costruito più a valle a vedere le gallinelle che uscivano dai canneti tutto intorno a nuotare verso il centro e i salti dei pesci che cacciavano le zanzare forse adesso è tutto cambiato se hanno incominciato a costruire la chiusa progettata per raccogliere le acque del flumineddu mi ricordo ancora come una volta vidi un grosso serpe entrare nell'acqua e uscirne poco dopo con una grossa anguilla in bocca e come ammazzai il serpe e gli portai via l'anguilla che poi dovetti buttare via perché non sapevo come fare a portarla si era irrigidita come un bastone e mi faceva puzzare le mani abbracci a tutti specialmente ai bambini e a te cara mamma il più teneramente possibile Antonio il paradiso della mamma carissima mamma ho ricevuto la lettera che mi hai scritto con la mano di teresina mi pare che devi spesso scrivermi così io ho sentito nella lettera tutto il tuo spirito e il tuo modo di ragionare era proprio una tua lettera e non una lettera di teresina sai cosa mi è tornato alla memoria proprio mi è riapparso chiaramente il ricordo di quando ero in prima o in seconda elementare e tu mi correggevi i compiti ricordo perfettamente che non riuscivo mai a ricordare che uccello si scrive con due c e questo errore tu me lo hai corretto almeno dieci volte dunque se ci hai aiutato a imparare a scrivere e prima ci avevi insegnato molte poesie a memoria io ricordo ancora rataplan e l'altra lungo i clivi della loira che qual nastro argentato corre via per cento miglia un bel suolo avventurato è giusto che uno di noi ti serva da mano per scrivere quando non sei abbastanza forte solamente che il ricordo di rataplan e della canzone della loira ti faranno sorridere eppure ricordo anche quanto ammirassi dovevo avere 4 o 5 anni la tua abilità nel limitare sul tavolo il rullo del tamburo quando declamavi rataplan del resto tu non puoi immaginare quante cose io ricordo in cui tu appari sempre come una forza benefica e piena di tenerezza per noi se ci pensi bene tutte le questioni dell'anima e dell'immortalità dell'anima e del paradiso e dell'inferno non sono poi in fondo che un modo di vedere questo semplice fatto che ogni nostra azione si trasmette negli altri secondo il suo valore di bene o di male passa di padre in figlio da una generazione all'altra in un movimento perpetuo poiché tutti i ricordi che abbiamo di te sono di bontà e di forza e tu hai dato le tue forze per tirarci su ciò significa che tu sei già da allora nell'unico paradiso che esista che per una madre penso sia il cuore dei propri figli ti abbraccio teneramente con tutti di casa antonio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti